Sono nato a Gaby Ligore il 27-10 del 50 e da bambino sono sempre stato attirato dal disegno. Leggevo molti fumetti e copiavo queste figure, ho cominciato così. Poi ho cominciato anche quando andavo al mercato con mio padre, che vedevo questi volti dei suoi clienti, io li guardavo di sottecchi, poi li rifacevo e li rifacevo uguali. Dopodiché ho studiato da geometra, ho imparato il disegno tecnico, ho fatto il disegnatore di edicole funerarie e di tombe e così poi ho proseguito con i colori a olio, fino ad oggi, spero ancora per molto tempo. Soggetti preferiti? Sono le case, i cavalli, anche gli interni di Barbar degli anni 70, dove si poteva fumare, dove c'erano queste donne con quelle pettinature particolari, eccetera. Ecco, per quanto riguarda le case, le sue case hanno una particolarità? Sì, non hanno, raramente hanno le finestre, anzi non ce l'hanno quasi mai. Ho tolto le chiese e i campanili che hanno qualche apertura, però per il resto non ci sono finestre né porte. Qual è il futuro artistico di Erio Grosso? Io spero che sia splendido, che un giorno diventerò famosissimo. Per adesso, no, scherzi a parte, io continuo a dipingere, a fare i miei lavori. Ma hai una galleria? Io non ho una galleria, però i miei quadri vengono comprati su internet, oppure da clienti, da persone che mi conoscono, mi vedono sul sito e mi contattano. E quindi, per fortuna... E i clienti cosa preferiscono? Quale soggetto preferiscono? Ho venduto parecchi quadri con queste case, però ho venduto anche molti cavalli, oppure i combattimenti dei galli. Però ultimamente ho venduto anche la testa di una medusa, per dire. I gusti sono i più disparati. L'ultimo lavoro che ho eseguito è stato fatto su ordinazione. Se no, offro a questi soggetti, che ho appena detto, i cavalli, le case, gli interni dei bar. C'è differenza dal fare il pittore ad asti, piuttosto che a Torino, piuttosto che in un'altra grande città? Non lo posso sapere, perché io sono come gli indiani. Nasco in quella tenda e muoio in quella tenda. Però sicuramente sì. Sicuramente fare il pittore a Milano sarà diverso. Ci saranno più chance. Ci saranno più chance.